Grecia rimane e rimanga in Europa. Il bugiardo di Palazzo Chigi aveva detto che vi era una partita tra l'euro e la dracma. Zipras in queste ore ha dimostrato che non era proprio nella sua testa il rientro nei ranghi del nazionalismo o dello Stato nazionale o l'uscita dall'euro e il ritorno alla dracma, ma che l'obiettivo era di aprire una discussione. Quanto conta la democrazia e quanto contano le oligarchie, quanto conta la politica e quanto conta l'economia, quanto conta il diritto del singolo cittadino, giovane precario, anziano, bambino e quanto conta invece l'arroganza e l'onnipotenza della signora Merkel e delle oligarchie finanziarie. Questa è la contessa che vi è stata in Europa.